1,65 italiana Viviano Mazzo 58 kg il suo stile è Keiwanda Mai Tai il team è MG la citante dall'angolo blu Paola Capucci 1,70 italiana vieno a Torato 158 kg il suo stile è Keiwanda a sugerire 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 ecco poi subito ecco 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 Grazie. 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 Fai tu, fai tu! Sopra! Vai Ester! Sì! 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 È 15. Fanno tu! Fanno tu! Oh! Ok! Dai lì! Dai lì Ester! Dai lì! Èee! Dai lì! Guarda la gambina! Otto eh? Otto Otto! Fui... Fui! 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 Sì! Bravo! Ecco! Bravo! Grazie. 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 Grazie.